Buonasera, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Susanna Di Pietra che è qui con noi e il professore Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Per quanto riguarda il bilancio di oggi, oggi registriamo il numero più alto di guariti mai verificatosi dall'inizio della gestione dell'emergenza, sono 4.693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945. I casi totali oggi, ad oggi, sono 205.463 con un incremento di 1.872 rispetto a ieri. Calano notevolmente anche le persone attualmente positive al Covid-19. Il totale è pari a 101.551 con una diminuzione di 3.106 rispetto a ieri. Di questi 1.694 sono in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri e 18.149 sono ricoverati con sintomi. 1.061 in meno rispetto a ieri. La maggior parte delle persone affette da coronavirus è in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi e sono 81.708 pari all'80% del totale. Per quanto riguarda le vittime oggi registriamo purtroppo 285 nuovi deceduti. Come avete potuto vedere dai numeri che vi ho dato ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Ovviamente non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani e quelli che abbiamo sempre fornito e in questa occasione vorrei anche ricordare un po' il bilancio di questo periodo, soprattutto per quello che riguarda l'impegno del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Siamo partiti con la dichiarazione dello stato d'emergenza, con l'impegno dei nostri volontari a supporto delle azioni di prevenzione, in particolare per quanto riguardava il controllo dei porti e degli aeroporti. Abbiamo controllato più di 4 milioni e 100 milioni di passeggeri nei nostri porti e oltre 190 mila passeggeri nei nostri aeroporti e 190 mila passeggeri nei porti. Dopodiché come sapete c'è stata la chiusura dei nostri porti e dei nostri aeroporti. Grazie all'impegno dell'aeronautica militare e dell'unità di crisi della Farnesina abbiamo lavorato per garantire il rientro in patria dei nostri connazionali che erano a Wuhan e a bordo della nave Diamond Princess in Giappone. Le forze armate sono state pesantemente impegnate accanto ovviamente al personale sanitario che è stato impegnato nella gestione dell'emergenza, le forze di polizia. Le forze armate sono state particolarmente preziose per il loro supporto sia di logistica che per quanto riguarda il supporto alle strutture ospedaliere che erano in sofferenza con l'allestimento degli ospedali da campo dell'esercito a Piacenza, a Cremona e agli esi della Marina Militare. Accanto alle forze armate voglio ricordare anche le strutture sanitarie temporanee che sono state realizzate dalle nostre associazioni di volontariato in particolare dall'Associazione Nazionale Alpini a Bergamo e dalle associazioni anche internazionali dalla ONG americana Samaritan Purs con un'importante struttura che è stata realizzata a Cremona. Un'altra attività importante del sistema di protezione civile nell'ambito del sistema di protezione civile è stata quella relativa alla centrale remota di soccorso sanitario, la famosa CROSS che ha movimentato 116 pazienti e di questi 38 sono stati accolti in Germania. Voglio ringraziare il governo tedesco, le autorità tedesche per averci dato l'opportunità di alleggerire gli ospedali della Lombardia in un momento di particolare criticità e di difficoltà. Voglio anche ricordare, visto che stiamo parlando delle attività di soccorso a livello internazionale, la grande generosità che è venuto dai Paesi europei e extraeuropei che hanno aiutato il nostro Paese con il supporto di materiali e con il supporto di medici e personale sanitario. Li voglio ringraziare tutto perché il loro supporto è stato per noi decisivo in un momento in cui il nostro Paese aveva una evidente e oggettiva difficoltà. Fondamentale è anche stato l'intervento del nostro volontariato di protezione civile, intervento che non è concluso e che continuerà nei prossimi giorni perché noi continueremo a essere impiegati come Servizio Nazionale della Protezione Civile nelle attività che stiamo portando avanti. In particolare voglio ricordare che ad oggi sono più di 720.000 di giornate uomo di volontari prestati alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, alle nostre strutture sanitarie e voglio anche ricordare che il numero maggiore dei nostri volontari è stato raggiunto il 24 aprile con 21.624 volontari. Anche importante è stata una nuova forma di volontariato che abbiamo sperimentato, quella delle task force, delle nostre task force di medici, infermieri e di operatori socio-sanitari. Gli ultimi a partire partiranno in mille per le esigenze delle nostre carceri ed istituti penitenziari e in 500 per le esigenze delle nostre residenze sanitarie assistenziali, residenze per disabili e residenze per anziani. Si tratta di una nuova forma di volontari e voglio anche ricordare con piacere che molti di questi al termine della loro esperienza mi contattano e mi chiedono come fare per rimanere nella grande famiglia della protezione civile. Il modo per rimanere nella grande famiglia della protezione civile di dare una mano alla protezione civile è quello di iscriversi all'associazione di volontariato di protezione civile e quindi auspico che costoro che hanno prestato la loro attività nell'ambito di questa esperienza possano poi essere iscritti, partecipare attivamente all'attività di protezione civile nell'ambito delle nostre associazioni nazionali e territoriali di protezione civile. Voglio anche ricordare la generosità dei nostri italiani. Sin dall'inizio dell'emergenza noi abbiamo raccolto su due distinti conti correnti 142 milioni 314 mila 276 euro, è il dato del conto corrente destinato all'utilizzo per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per l'acquisto delle apparecchi medicali e 6 milioni 310 mila 815 euro sono le risorse che abbiamo raccolto su un conto corrente che vorremmo vedere crescere, che è il conto corrente destinato alla costituzione di un fondo in favore dei familiari e delle vittime del personale sanitario che ha perso la vita proprio in occasione del coronavirus. Voglio qui abbracciare i familiari delle vittime, voglio abbracciare e ringraziare anche tutto il personale sanitario, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori sociosanitari che sono stati e sono duramente impegnati contro questa guerra al coronavirus. Voglio anche ringraziare il presidente del consiglio dei ministri e i singoli ministri, tutto il governo, perché sono stati presenti e hanno diretto la gestione dell'emergenza facendoci sentire la loro costante presenza nelle nostre attività, collaborando quindi e dirigendo nelle nostre attività in ogni fase dell'emergenza. Da ultimo voglio ringraziare voi, giornalisti, gli operatori dell'informazione e tutti coloro i quali hanno lavorato per fornire informazione ai nostri connazionali e per la vostra presenza qui al Dipartimento. Consentitemi anche un ringraziamento particolare alla RAI che sin da subito ha reso disponibile alle altre testate giornalistiche il proprio segnale. Come ho detto i dati noi continueremo a fornirli attraverso il consueto comunicato stampa e sul nostro sito www.prodezionecivile.gov.it. Professore io mi fermo qui, a lei la parola. Grazie dottor Borrelli. Io prima di un breve commento sui dati della giornata è un pochino più ampio. Anch'io nel mio piccolo vorrei fare un ringraziamento a lei, prima di tutto come cittadino italiano, poi come membro del Comitato Tecnico Scientifico. Penso anche da parte di molti altri miei concittadini le siamo veramente grati e riconoscenti per il ruolo che ha svolto in queste dure settimane e per il punto di riferimento che ha rappresentato per una comunità che si è stretta intorno a un problema come non era mai stato visto dal nostro Paese. Quindi la ringrazio a titolo personale ma anche più ampio. I dati di oggi sono molto confortanti nel senso che vediamo che gli indici che siamo abituati a vedere e a seguire ancora una volta vanno nella direzione giusta. In particolare oggi, ad esempio, vediamo un calo di 3 mila unità tra gli attualmente positivi e un calo di un aumento di quasi 5 mila unità tra le persone dimesse dalle strutture sanitarie o guarite. Abbiamo sei regioni che non riportano decessi per SARS-CoV-2, abbiamo nove regioni con meno di 10 decessi giornalieri e abbiamo chiaramente una conferma che le misure che sono state attuate hanno portato a una drastica riduzione della straordinaria pressione sul servizio sanitario nazionale che abbiamo visto nelle scorse settimane. Se guardiamo agli ultimi 15 giorni che devono rappresentare per noi un po' da qui in avanti un orizzonte temporale importante, perché sappiamo che questo orizzonte temporale è quello all'interno del quale possiamo vedere se le misure che abbiamo adottato in senso restrittivo o in senso contrario hanno causato degli effetti particolari. Quindi se guardiamo gli ultimi 15 giorni in cui abbiamo avuto le misure di lockdown, abbiamo sostanzialmente dimezzato il numero dei deceduti, abbiamo raddoppiato il numero dei guariti, abbiamo ridotto di oltre un terzo le persone ricoverate in terapia intensiva e abbiamo anzi della metà le persone in terapia intensiva e abbiamo ridotto significativamente anche il numero dei ricoverati. E addirittura se guardiamo un mese fa abbiamo numeri ancora superiori. Quindi questa tendenza che abbiamo visto giorno per giorno con quei numeri che ci siamo anche sforzati di non interpretare troppo, adesso possiamo dire che abbiamo un quadro almeno quindicinale ma forse anche mensile che ci dice che stiamo andando nella direzione giusta. C'è poi un dato che vorrei sottolineare. Stiamo facendo, il sistema sta facendo più tamponi. Come sapete testare le persone è il punto cruciale per contenere la diffusione del virus e il rapporto fra tamponi eseguiti e persone e tamponi positivi è sceso sotto una soglia che è quella del 3% che è considerata essere una soglia cruciale per dire che si sta comunque facendo una quantità di tamponi sufficiente e che il numero di positivi è un numero di positivi sostanzialmente contenuto. Ovviamente questo non è tutta la fine della storia perché dopo i positivi che vengono riscontrati devono essere isolati, devono essere tracciati contatti, devono andare in quarantena i contatti, però questo per dire che il quadro che abbiamo oggi è un quadro molto confortante. Confortante nel senso che la diffusione del virus è in questo momento rallentata, la pressione sul servizio sanitario si è ridotto e noi certamente siamo da una parte più pronti e da una parte più consapevoli della sfida che ci starà aspettando nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Bene, diamo in corso le vostre domande. Intanto grazie dottor Borrelli per questo spazio di informazione e di comunicazione in bocca al lupo per il lavoro futuro. Iacomo Matano, Tg3. Dal 4 maggio ci saranno molte persone che viaggeranno su treni aerei e la domanda è una. Siete preoccupati? Allora io credo assolutamente di no. C'è bisogno di un grande senso civico da parte dei nostri connazionali. Bisognerà muoversi in caso di esigenze e soprattutto rispettare quelle che sono le regole del distanziamento tra le persone. Quindi se tutti quanti noi rispetteremo le regole, le buone regole, quelle di igiene e anche di evitare assembramenti, occasioni di affollamento riusciremo a governare la situazione. Buonasera Angela Caponnetto, Rennes24. Io rinnovo anche, come il mio collega, ringraziamento anche per averci ospitato qua in questi due mesi difficili e quindi le richiedo però di nuovo, lei ha già parlato del suo bilancio, però glielo chiedo in maniera diversa. Un bilancio suo e anche per il comitato tecnico scientifico, cioè affrontare un'emergenza del genere, la protezione civile non l'aveva mai vissuto, come nemmeno il governo, neanche noi italiani. Ecco, ci può fare un bilancio di quello che è stato per voi, umanamente, oltre che tecnicamente, affrontare una situazione come questa, possiamo dire con un termine forse non, che a me non piace particolarmente, ma apocalittica? Allora, io le dico, intanto l'emergenza non è finita, è bene precisarlo e dirlo in premessa. Noi non ci vedremo più in questi appuntamenti periodici adesso ed erano quotidiani con voi e questo mi dispiace un po' perché era diventata una cosa molto familiare con noi e con gli italiani. Sicuramente in questa situazione noi abbiamo vissuto un'esperienza mai vista nel nostro Paese e anche io, nei miei ormai 18 anni di protezione civile, non avevo mai vissuto un'emergenza così intensa e così anche crescente nella dimensione. Abbiamo tutta una serie di conferme. Le conferme per quanto riguarda il nostro servizio sanitario voglio ancora ringraziare tutti quanti, a partire dal Ministro della Salute al personale sanitario delle nostre strutture perché ha consentito di fare la differenza in questa situazione. Il nostro sistema di protezione civile, devo dire che ancora una volta abbiamo dimostrato una grande capacità di lavorare in un gioco di squadra con grande coesione e quindi questa è una cosa importante. Una conferma, se mi permettete, per i nostri concittadini che hanno dato una grande prova di serietà e di rispetto di quelle che sono le regole. Quindi queste sono tante conferme che faranno bene al futuro del nostro Paese. Ringrazio della domanda. Per me è stata un'esperienza ovviamente nuova come per tutti. Io sono arrivato a Roma da tre anni. Prima sono fatto un'esperienza in Inghilterra e quindi sono relativamente nuovo dell'ambiente e della situazione in cui mi sono trovato. Certamente è stata un'esperienza complessa, complicata che mi ha dato modo di scoprire però almeno tre cose importanti. La prima, ci sono delle professionalità all'interno delle nostre istituzioni veramente notevoli. Ne cito due per tutte. L'Istituto dell'Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL che ha veramente dato prova di essere preparata anche per queste istituzioni e anche per evenienze come queste. Non so se oggi avete seguito la conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. È stato un esempio veramente di produzione scientifica e di approccio a un problema così complesso come ce ne sono stati, credo, pochi nel mondo. Il secondo poi è aver conosciuto dei colleghi molto più valenti e più importanti di me la cui cifra però è stata l'umiltà. nel senso che all'interno del Comitato Tecnico Scientifico ho sempre visto utilizzare l'umiltà come prima fase di qualsiasi cosa. Cioè mai andare oltre quello che si pensa di sapere ma porre sempre dei dubbi e da quei dubbi cercare di costruire le cose insieme. E l'ultima cosa che ho trovato è stata certamente quella di trovare una situazione anche a volte di pressione ma certamente anche di comprensione molto spesso da parte della stampa, da parte degli organi di informazione che a mio parere hanno giocato un ruolo veramente cruciale e lo giocheranno ancora di più nei prossimi mesi. Grazie Dottor Borrelli, grazie anche a Susanna Di Pietra a tutti per questo appuntamento quotidiano di cui faremo meno però avremo sempre l'aggiornamento quotidiano dei dati. Giorgia Cardinaletti, TG1 è una domanda per il professor Richel di questo studio cinese che abbiamo visto oggi pubblicato su Nature che mostra che su 285 pazienti la totalità sviluppa gli anticorpi. Questa è una buona notizia in ottica test sierologici ed è anche uno studio che promette bene per quanto riguarda l'immunità ma quanto dura questa immunità se si può dire. Di nuovo grazie. Si può dire se uno lo sa, nel senso che non lo sappiamo quanto dura. Certamente lo studio è importante per due motivi. Uno perché è pubblicato su una rivista molto prestigiosa che è Nature Medicine e due perché dà dei risultati molto chiari. Cioè su questo gruppo di pazienti, che sono circa 300 pazienti, come ha detto lei, nell'arco delle canoniche due o tre settimane tutti sviluppano degli anticorpi che sono identificabili e misurabili a livello del sangue periferico. Questo è, diciamo, il presupposto per sviluppare un'immunità protettiva. Che questo sia un'immunità protettiva non è detto, che possa essere presupposto però sì, che quindi gli anticorpi possano essere misurati e, come lei sa, sta partendo un grande studio sieroepidemiologico di prevalenza in Italia e questo ci darà dei risultati importanti, quello è uno studio importante anche perché ci dice un'altra cosa. Cioè ci dice che nella maggioranza di questi pazienti la risposta a questo virus è una risposta sostenuta ed è una risposta che ha un misurabile livello all'interno del sangue periferico e quindi sarà certamente in futuro uno strumento come minimo per misurare la diffusione del virus, potenzialmente anche per sperare che, come in altre malattie virali, ci sia almeno una temporanea protezione rispetto a una reinfezione, cioè che ci possa consentire di guadagnare tempo rispetto a quando non avremo farmaci efficaci o vaccino. Buonasera, Mauro Evangelisti, messaggero. Due cose. La prima è noto dai dati di oggi che solo cinque regioni hanno più di 100 nuovi casi positivi e quindi questa è una cosa ovviamente che va nella direzione giusta, ma mi domandano, il Comitato Tecnico Scientifico non avrebbe dovuto suggerire al Governo misure come in Spagna che vengono calibrate a secondo della situazione delle varie province? Noi abbiamo scelto la strada del territorio tutto il quale trattiamo la Calabria o la Basilicata come trattiamo la Lombardia e il Piemonte, ecco perché altre nazioni invece fanno altri tipi di scelte e forse se queste non sono scelte da valutare. La seconda cosa che vorrei chiedere, mi ha colpito positivamente ovviamente il numero molto alto di persone guarite oggi, mi pare siamo a 4.000. 2.600. So, ho letto da qualche parte che c'è anche il fatto che la provincia di Reggio Emilia ne aveva accumulate delle notifiche quindi un po' è drogato a questo fatto ma è comunque un numero molto alto. Solo il 20% di chi oggi è positivo è in ospedale, quindi questo mi fa pensare che l'80% sia in condizioni buone, non gravi. Però ci viene sempre detto che ancora non sono stati trovati i farmaci che possono affrontare in modo efficace Covid. Ma allora come stiamo curando le persone che poi per fortuna guariscono? Sì, allora la prima domanda, l'approccio diciamo regionalizzato alle misure è una questione che è stata discussa ovviamente all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, c'è un dibattito internazionale su questo, non è che venga discusso solo all'interno del CTS e la questione è molto complessa, è molto complicata perché ci sono da tenere in considerazione vari aspetti sia aspetti da un punto di vista legislativo, sia aspetti da un punto di vista logistico ma anche aspetti proprio da un punto di vista scientifico. Le faccio un esempio, c'è il dato da tenere presente di cui abbiamo parlato prima con la domanda della sua collega che in teoria una maggiore percentuale di immunizzati sul territorio rende quella popolazione sostanzialmente più protetta rispetto a una nuova esposizione. Mentre una regione in cui il virus è circolato molto poco avremmo una grande percentuale di individui cosiddetti naif cioè cosiddetti che non hanno un'immunità. Quindi sono bilanciamenti che vanno considerati. Io credo che nel nostro caso, essendo noi una nazione unica aspetti diciamo generali debbano essere indispensabili salvo poi ci possano essere delle piccole variazioni che certamente ci saranno. Ricordiamoci ad esempio le zone rosse che ci sono state e probabilmente ci saranno perché sono esattamente degli provvedimenti locali perché lì l'epidemiologia del virus e della circolazione è diversa. Quindi per rispondere alla sua domanda non c'è un approccio secondo me che è giusto al 100% per misure nazionali o al 100% per misure regionali. Credo che vada un pochino usato il buon senso ma avere una base di partenza a livello nazionale credo che sia molto utile e forse lo sarebbe anche a livello sovranazionale. Se vediamo i numeri di altre nazioni che hanno preso strade un pochino diverse ricordiamoci che oggi credo almeno tre o quattro paesi in Europa hanno un numero di decessi purtroppo superiori al nostro. L'altro sulle terapie. Le terapie ci sono due aspetti da considerare. Il primo che i medici, noi medici, ci stiamo facendo esperienza su questi malati che prima non avevamo mai visto. Arrivavano queste polmonite, arrivavano questi malati con tutti i parametri fuori controllo e noi non sapevamo, non registrevamo cosa fare. Oggi ci è un pochino più di conoscenza. Ci sono alcuni farmaci che hanno dato risultati incoraggianti. C'è un antivirale, si chiama Remdesivir che ha dato uno studio un po' contrastante tra i due. Uno cinese e un americano che hanno dato due risultati contrastanti ma sembra che ci sia qualcosa. Il nostro approccio è più conservativo ma devo dire che probabilmente la maggior parte della risposta la sua domanda sta anche in una diagnosi più precoce, in una maggiore consapevolezza e in una gestione più calma, cioè una gestione più fattibile del Servizio Sanitario Nazionale. Penso che queste cose insieme giustifichino quello che ha detto lei oggi che è un'ottima notizia e che per il futuro magari avere dei farmaci ancora più efficaci sia un obiettivo raggiungibile. Buonasera, scusate, sono Navarra dell'Agenzia di Stampa Asca News. Allora, chiedo di fare un salto. Ci sono state, nelle scorse settimane specie, scorsa settimana, diverse prese di posizione per quel che riguarda le unità di assistenza familiare. Alcune categorie sono anche intervenute in questo senso, senza che lo ricordo, però ecco, siccome si lamenta da più parti la discresia tra una regione e l'altra, tra una zona e l'altra, chiedevo se avevate pensato, al Comitato Scientifico oppure anche al dottore Correlli, se è stato pensato di accorpare tutto quanto questo in una dimensione coordinata, ecco, che permettesse, diciamo, l'assistenza familiare in maniera continuata e organizzata. Scusate. L'assistenza ai malati o l'assistenza ai membri del nucleo familiare? Ai malati, chiaramente. Ai malati. Ai malati che stanno a casa e quindi, però ci si lamenta, diverse sono state anche le associazioni di categoria dei medici che hanno detto questo. Beh, qui bisogna distinguere quello che riguarda, diciamo, l'assistenza sanitaria dall'assistenza di altro tipo. Credo che nel piano del Ministro, e poi qui il Professore Richeldi lo potrà confermare, c'è un potenziamento molto forte della medicina territoriale. Quindi su questo bisogna puntare sulla sanità di prossimità. Invece, per quanto riguarda le altre forme di assistenza, sociale, io voglio ricordare il nostro volontariato di protezione civile che è sempre presente e voglio anche ricordare nuove forme di volontariato che non sono come il nostro volontariato qualificato, formato. Stiamo ragionando anche col Ministro Boccia che voglio ringraziare perché nell'interlocuzione con le Regioni è stato lui che si è fatto anche promotore di queste idee delle task force che abbiamo istituito, quelle dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari, per creare delle ulteriori figure di volontari per il supporto comunque sociale nei territori. A supporto dei Comuni ci stiamo lavorando, lavorando, stiamo lavorando a livello tecnico per definire una proposta, ma se ne è discusso anche ieri nella conferenza dei Presidenti delle Regioni, nella conferenza Stato-Regioni. Quindi a breve vedremo altre forme di rafforzamento della cooperazione sociale nel nostro Paese. Per quanto riguarda l'assistenza ai malati, il Servizio Sanitario Nazionale si è attrezzato e si sta attrezzando ancora di più. Il Dottor Borrelli si riferiva alla medicina territoriale e la medicina territoriale avrà il carico sia dei pazienti nuovi che anche dell'identificazione dei contatti, del contact tracing, dell'isolamento. E per questo c'è un grande rafforzamento con incremento dei numeri delle persone che faranno questo a livello regionale. Ci sono stati degli aumenti di organico molto consistenti. Non scordiamoci che abbiamo adesso i Covid Hospital. Abbiamo dei presidi dedicati e strutturati e preparati per accogliere questi malati, che ovviamente non avevamo. Quindi ogni Regione ha uno o più Covid Hospital all'interno di altri ospedali o ospedali dedicati. Infine tutte le Regioni si stanno attrezzando e sono attrezzate molte anche per quelle strutture intermedie che molto spesso sono state identificate in strutture alberghiere che sono fondamentali per assicurare un isolamento efficace delle persone infette ma che non necessitano di un ricovero ospedaliero. Questa è una chiave molto importante. Queste strutture nella letteratura internazionale sono già riconosciute come strutture indispensabili per un efficace controllo dell'infezione e il nostro Servizio Sanitario Nazionale si è già attrezzato e si sta attrezzando in molte Regioni per avere a disposizione queste strutture che sono intermedie tra l'ospedale e la famiglia ma che consentono appunto di essere di supporto alla famiglia per assicurare un adeguato isolamento e anche ai malati di avere la possibilità di avere il periodo di isolamento in una struttura confortevole e sicura. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Per il professor Richeldi, in quanto pneumologo, io vorrei chiedere se, passati ormai parecchi mesi dall'inizio dell'epidemia, almeno in Cina ma anche in Italia, se si cominciano a delineare quelli che possono essere le conseguenze polmonari per le persone che hanno dovuto affrontare la malattia. Questo come pneumologo. Invece, come membro del Comitato Tecnico Scientifico, io vorrei chiedere, oggi il Presidente del Consiglio ha parlato di una possibile riapertura in tempi brevi di asili nido e centri estivi per bambini. Già questa mattina l'Istituto Superiore di Sanità ha manifestato, mi pare, delle perplessità su questa possibilità. Vorrei chiedere al Comitato Tecnico Scientifico su questo come si è espresso, anche perché abbiamo visto che il rapporto poi consegnato al Governo su cui tarare appunto le riaperture non prevede questa fattispecie. Quindi vorrei capire da dove nasce l'annuncio del Presidente Conte e se c'è un riscontro anche nel Comitato. Grazie. Sì, parto dalla prima che mi sembra anche più semplice. Reliquati polmonari da questa infezione. Sì, ci sono. Parlavo stamattina con un mio collega che è il primario della pneumologia dell'ospedale di Lodi che quindi è stato in trincea e che quindi sono i primi che incominciano a vedere. Avremo una corte di pazienti che avrà dei risuduati fibrotici a livello polmonare e quindi probabilmente potranno diventare una nuova categoria di pazienti con malattie polmonarie e con insufficienza respiratoria. Ci stiamo lavorando, come Società Italiana di Pneumologia stiamo lavorando con l'Istituto Superiore di Sanità per avere un modello per seguire questi pazienti che verrà fatto a livello nazionale. Sono certamente un nuovo problema sanitario, pneumologico e non solo pneumologico perché possono avere anche problematiche ma ci stiamo già facendo carico con un nuovo modello di questi pazienti e gli ambulatori sono già aperti presso vari ospedali. La questione asili nido ho sentito anch'io, ho letto sugli organi di stampa e credo che sia una classica, ovviamente non le so dire perché il Presidente Conte abbia detto questa cosa, ma immagino io che sia un classico esempio del momento in cui il politico fa un bilancio tra quello che dicono i dati scientifici e quelli che dicono le esigenze sociali. Ovvero, immagino che l'apertura degli asili nido non equivalga all'apertura di tutte le scuole di ogni ordine grado e delle università. Quello è quello che nei modelli è insostenibile. L'apertura degli asili nido invece, immagino, possa ottemperare a una esigenza di genitori, lavoratori, con bambini piccoli e magari senza supporto familiare che possa attenuare l'impatto di questa problematica. Quindi non sarei preoccupato se questa misura venisse adottata e sarei certo che verrebbe adottata in un'ottica più generale, cioè di avere un impatto minimo, ma un grande beneficio a livello sociale. Luca Laviola dell'Agenzia ANSA e al professor Richeldi vorrei chiedere della sindrome di Kawasaki, questa malattia dei bambini di cui si è parlato negli ultimi giorni per un aumento anomalo dei casi, soprattutto nel nord Italia. Se ci spiega di che si tratta e se c'è da preoccuparsi, perché forse una delle poche buone notizie durante la fase 1 è stata che i bambini erano molto poco interessati dal coronavirus, altrimenti penso che il panico tra la popolazione sarebbe stato ancora maggiore. Di che si tratta? Assolutamente, ha perfettamente ragione. Intanto le confermo i dati anche che stamattina ha presentato il dottor Merler alla conferenza di tutto l'Osc. di Sanità ci dice che i bambini hanno una minore possibilità di essere infettati, di contagiarsi e di ammalarsi. Quindi questo è un dato molto solido. La sindrome di Kawasaki è una sindrome pediatrica, quindi io non sono un pediatra, ma ho la fortuna di sedere col professor Villani che è il primario della pediatria dell'ospedale Bambin de Gioux nella commissione tecnico-scientifica e quindi ho sentito cosa ha detto lui che le riporto con molto piacere. È una sindrome rara, è una sindrome infiammatore dei piccoli vasi, è una malattia grave, è una malattia conosciuta e ci sono state alcune segnalazioni di un incremento in alcuni centri in relazione possibilmente anche che è l'incremento della diffusione di SARS-CoV-2. Il professor Villani ci ha detto che in Italia, credo a livello europeo, ma certamente in Italia, il network degli ospedali pediatrici si è già attivato per una costante sorveglianza dei nuovi casi di malattia di Kawasaki. Quindi, per il momento, non è una cosa su cui generale un allarme perché non sono dati confermati, ma la cosa buona è che c'è già un network di pediatri in carico della sorveglianza di questa patologia e immagino che se c'è qualcosa di vero certamente lo sapremo presto. Grazie. Buonasera, Daniele Petraroli, TG2. Io volevo capire una cosa che credo sia fondamentale poi per la fase 2. L'ho già chiesta quest'antena al professor Brusa Perro, poi non abbiamo avuto modo di approfondire. I test sierologici privati, innanzitutto, tantissimi cittadini stanno facendo, appunto, privatamente, migliaia di cittadini stanno facendo. Vorrei capire se esiste un protocollo nel caso in cui il risultato sia positivo perché chiaramente a quel punto dovrebbero fare un tampone se esiste quindi una procedura. cosa dovrebbe fare un cittadino che è positivo. Oltre a questo è possibile fare un tampone privatamente perché a me risulta che ne stiano facendo molti. Non credo in maniera troppo limpida e trasparente, ma capite bene che c'è un serio rischio che qualcuno riesca a farselo privatamente e qualcuno invece aspetti anche un mese, un mese e mezzo che il sistema sanitario nazionale arrivi a fare quello pubblico. grazie. Capito che purtroppo il professor Brusaferro non le ha risposto altrimenti non aveva avuto il tempo perché altrimenti avremmo già risolto. Mi ha detto che dobbiamo lavorarci ma siccome sono un mese e mezzo che insomma si fanno questi tamponi vorrei capire se perché poi non ho avuto il tempo di fargli la domanda successiva se c'era un protocollo o meno. Certo. volevo essere sicuro di aver capito bene questo e soprattutto quello dei tamponi privati cioè si può fare un tampone privatamente se non si può fare perché qualcuno lo sta facendo perché alcuni laboratori lo stanno facendo. Guardi, sono domande che esulano un po' dalla mia competenza ma cercherò di darle una risposta al meglio di quello che posso. Sierologia, esami sierologici ho visto anch'io che c'è stata un'esplosione di test ovviamente questa è una cosa tra virgolette da una parte buona da una parte meno buona anche perché alcuni di questi test hanno un'attendibilità molto ridotta. Il problema dei test diagnostici è che nessuno test diagnostico è accurato al 100%. Ogni test diagnostico ha una certa percentuale di falsi positivi e di falsi negativi. Si cerca di fare con il meglio che c'è e il meglio che c'è sono alcuni test che sono arrivati sono in tecnica ELISA o CRIA lo studio di cui parlavamo prima sugli anticorpi cinesi è stato fatto con uno di questi test in tecnica CRIA questi sono test affidabili. Ora la sua domanda va oltre mi dice se io faccio un test affidabile e quel test affidabile mi dice che ho l'immunoglobuline G per il SARS-CoV-2 cosa devo fare? Devo fare un tampone? Questo è un protocollo che ancora non c'è ma quel test è mirato a vedere se c'è stato un contatto e una risposta immunologica quindi non è mirato a vedere se c'è attualmente RNA virale in quell'organismo è chiaro che è una cosa che stiamo imparando e stiamo facendo e immagino che questo grande studio che sta partendo di siero prevalenza su un campione di 150.000 italiani con uno dei test affidabili ci darà certamente delle risposte in questo senso per questo il professor Brusaferro probabilmente è stato un attimo cauto perché sono risposte che avremo a breve sui tamponi fatti privatamente sinceramente io non so che cosa dirle perché non ho nozione però so che c'è un ministero della salute e un istituto superiore di sanità che vigilano fortemente su queste attività quindi mi immagino che se ci sia qualche laboratorio convenzionato che è stato autorizzato dal ministero della salute e dell'istituto superiore di sanità ad eseguire questo tipo di test come succede per tanti altri test quella sia una cosa legittima al momento non so se ce ne sono di autorizzati e se è una cosa che è già in atto non escludo che lo sia ma per il futuro immagino che per aumentare la capacità dei tamponi possa anche essere un'ipotesi percorribile bene allora grazie buonasera a tutti e alla prossima volta alla prossima volta nel futuro della protezione civile c'è sempre una prossima volta grazie 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 grazie